Fabio è finalmente libero. Il fratello Andrea sceglie queste parole per comunicare all'associazione Luca Coscioni la morte di Fabio Ridolfi. Si è spento ieri sera all'età di 46 anni nella sua casa a Fermignano dopo aver sofferto per 18 anni a causa di una tetra paresi e costretto ad una vita alla quale non sentiva più appartenere. La sedazione profonda e continuata che gli è stata applicata ieri sarebbe dovuta durare 15 giorni, che lo avrebbe spento lentamente per mancanza di nutrimento come lui stesso aveva disposto. E invece per lui la luce si è spenta dopo appena 6 ore dall'iniezione, liberandosi da quella sofferenza che da troppo tempo lo tormentava. Fabio era talmente debilitato che il suo fisico non ha retto la somministrazione del farmaco, fatto al mattino nel suo letto da una squadra di medici. E proprio attorno al suo letto, sul quale sdraiato dal 2004, c'erano anche i familiari, quelli che in questi anni di dolore lo hanno accompagnato quotidianamente per regalargli un ultimo sorriso prima che Fabio chiudesse gli occhi per sempre. Il respiro si è fermato 6 ore dopo, l'orologio segnava le 17.23, poi la constatazione del decesso da parte dell'equip medica. Poco dopo la famiglia comunica la dipartita all'associazione Coscioni, la quale diffonde la notizia sulla sua pagina Facebook. Se n'è andato sereno tra l'affetto dei familiari, degli amici e del capitano della sua squadra del cuore, la Roma. Poche ore prima dell'iniezione ha potuto esaudire infatti un ultimo desiderio, ricevere un video messaggio di salute e vicinanza da parte del calciatore Lorenzo Pellegrini, in grado di riaccendere in lui uno spiraglio di felicità. Anche la città di Fermignano si stringe al dolore della famiglia, quella a Fermignano che domenica sera è scesa in piazza per dedicare un ultimo saluto al suo Fabio, che da lì a pochi giorni avrebbe ricevuto l'iniezione del farmaco. L'associazione Coscioni, che ha reso virale la storia di Fabio Ridolfi, non ci sta e chiede dei provvedimenti immediati da parte del governo. Da quattro mesi infatti Fabio aveva chiesto l'aiuto medico al suicidio, rientrando nelle condizioni previste dalla Corte Costituzionale, ma una serie di incredibili ritardi da parte del Servizio Sanitario l'hanno portato a scegliere la sedazione profonda e la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale in corso.